Baiocco cambia gioco per Zambelli, si propone Baiocco, Zambelli fa da solo, ancora Zambelli, ottimo il tocco per Budel, Possanzini, Possanzini fuori gioco, fuori gioco e poi c'è il gol di Cossack, gol annullato a Cossack per fuori gioco di Possanzini, molto bella però l'azione del Brescia, rivediamo e forse c'è Angelo che tiene in gioco Possanzini, va rivista questa azione ma abbiamo avuto l'impressione che Angelo fosse